Settima ed ultima corsa in programma al Cirigliano di Averze, il premio passiflora abbinato alla seconda tris. Un miglio per anziani di categoria G, non corre Udini-Dor, su Albaidi-Bielle c'è Mario Minopoli-Junior. Sono in quattordici Alvia, prima fila per Bellino-Gal, Zephyr-Mene, Ubik, Parru, Rick, Pisano e Albaidi-Bielle, seconda per una BG King, Alcatraz, Fivergiano, Biancaniv-SM, Zilli e Unico-Giasceba. Terza fila per Zellig-Gett, Aladimbi e Trofalzac. Si chiudono le ali del mezzo meccanico con Ulrich Pisano che scavalca tutti ed assume l'iniziativa nei confronti di Bellino-Gal, ha sbagliato Ubik, Parru, parte bene Zephyr-Mene, ma c'è già Bellino-Gal a mezza ruota che vuole muovere a largo per andare a rilevare al comando Ulrich Pisano e il tutto si concretizza dopo circa 250 metri di gara. Così il favorito Bellino-Gal al comando nei confronti di Ulrich Pisano. Per linee esterne, incombe, Biancaneve-SM. 38, il quarto iniziale, Bellino-Gal tiene ritmo sollecito seguito da Ulrich Pisano e affiancato da Biancaneve-SM, poi una BG King che è filtrata dalla seconda fila in terza posizione alla corda. Si viaggia sul piede dell'1.15 in difficoltà Ulrich Pisano e ciò permette a Biancaneve-SM di ripiegare. Ci ha provato Luigi Farina ma non c'è riuscito, è rimasta comunque a largo. Si continua a ritmo sostenuto, Bellino-Gal, Ulrich Pisano e Biancaneve, una BG King, via via gli altri. Nel frattempo finisce squalificato Vergiano. 16.3 il chilometro, continua la pressione di Biancaneve-SM a Bellino-Gal che però allunga decisamente di fronte. tre quarti di miglio completati in 1.31.5. Bellino-Gal, Ulrich Pisano, Biancaneve, si inserisce Alcatraz-Filo stesso, prova a fare Zelig-Jet in anticipo su Aladin-B. Bellino-Gal sta entrando al comando in retta d'arrivo. Bellino-Gal in vantaggio, Biancaneve non demorde. Ci prova pure Biancaneve, va su Bellino-Gal. Lotta serrata, poi Biancaneve affianca l'avversario a largo Alcatraz. Bellino-Gal fino al traguardo. Nei confronti di Biancaneve-SM ancora autrice di un'ottima prova. E al terzo Alcatraz-Fi che è emerso nel tratto conclusivo a largo. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1.15.8. Ancora un favorito al traguardo è il caso di Bellino-Gal, il figlio di Varenne e Prisca di Azzurra, di proprietà ed allenato da Massimo Finetti, condotto dall'inizio alla fine da Vincenzo Luongo. Vedete i tre molto vicini, ma i distacchi sono comunque abbastanza evidenti, seppur minimi. Bellino-Gal precede Biancaneve-SM e Alcatraz-Fi per i numeri 1, 10 e 8. E tutto dal Cilidiano di Aversa. Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima giornata di corse che si terrà mercoledì 30 novembre. Buona serata a tutti, buon fine settimana. Grazie a tutti.